Ok ragazzi sentite tutto bene? Siete tutti carichi? Perché oggi facciamo qualcosa E cosa facciamo? Non lo so, adesso ci pensiamo, si sente bene, perfetto, che non è né bene né male, ma si sente, si vede e si vola Oggi, come dice il titolo della live, volevamo sfogliare una barra due riviste, dipendentemente da quanto ci mettiamo, però è il meno male una in teoria Buongiorno, ciao Ginus0016, bene, visto che io, allora, partiamo un attimo dal principio, io ho, carissimo, perfetto Io ho una sfilza di riviste che ho trovato in casa sistemando il magazzino, che penso abbia preso mio papà all'epoca E si chiamano i grandi fotografi, adesso ne prendiamo una, che è questa, ed è i grandi fotografi, voi forse la vedete specchiata, no non la vedete specchiata, perfetto Questo è Franco Pinna, il maestro Franco Pinna, mitico, che ovviamente io non ho mai sentito nominare Ma ci sono delle, e dentro queste riviste sono appunto, erano un tot di numeri, erano 24 numeri all'epoca, all'inizio Poi sono stati trasformati in 48 numeri, perché prima era bisettimanale, poi è diventato settimanale, perché la gente ha detto Cazzo, le spendono però ste 24, quante cazzo erano? 4000 lire, non lo so, ste tot di lire E quindi ha detto, sai cosa facciamo? Lo facciamo, è una roba più fighetta, no? Facciamolo settimanale Io ho anche, in una delle riviste, c'è anche il foglietto illustrativo Di che anni sono? Di che anni sono, Alex, ciao Allora, di che anni sono? Te lo dico, cerco di farlo subito, perché non riesco a trovare, forse alla fine, all'inizio non c'è nessuna prefazione di niente I grandi fotografi Degli anni 80 Iniezione editoriale, sulla colana 1982 Però Quindi gli anni 80, in teoria Quindi molto bene, molto bene E hanno, ovviamente, sia la parte fotografica, sia una parte di introduzione e nella parte finale si parla un po' anche del fotografo Insomma, cioè, si parla un po' in tutte e due le parti del fotografo E secondo me sono molto interessanti, perché sono intanto 48 numeri che io non ho tutti Va bene, ne ho anche alcune doppi Quindi alcuni potrebbero essere un bel premietto qualche volta per qualche followers Quindi mi raccomando E sono anche carine, insomma, sono belle sottili Ovviamente sono un po' vecchiote, quindi hanno un po' i segni del tempo, dell'umidità, eccetera Però io ho scoperto delle foto della Madonna Soprattutto di alcuni fotografi che non conoscevo Per esempio c'è anche, vabbè, c'è Nino Migliori, c'è Gian Paolo Barbieri Io in cima ho quelli italiani, ma poi ci sono anche... C'è anche Ernst Haas, c'è Werner Bischoff Oddio, che sono... Attenzione Scusa È il domenica pomeriggio, post-pranzetto È... Volevo aggiungere una cosa che... Vai È come si chiama la collana? I grandi fotografi È... È poco tempo fa, secondo me l'anno scorso è uscita un'altra collana, credo con Reci, con Repubblica Perché la sto guardando adesso nella mensola Che si chiama I maestri di fotografia Ah Hanno... Sicuramente sono tutte collane che col tempo ripetono, comunque cercano di aggiornare, fare E io ne ho un po', ne ho un po', dovrei averli tutti tranne il primo, perché il primo era... Secondo me il primo era Salgado e ho detto, no, non lo prendo Tanto c'ho già... C'ho già un po' di... c'ho già Genesi E... E ci sono infatti anche qua tutti... Ma... e quella è quella di... C'è anche Pellegrin? Come? C'è anche Pellegrin in quella lì? Sì Ah ok, e allora... Anche tu? Sì, quella di Pellegrin ce l'ho anch'io, è l'unica che ho preso Hai preso il numero con Pellegrin Esatto E' stata fatta con Repubblica e in collaborazione ovviamente con National Geographic E' bello perché comunque dentro ci sono delle prefazioni di diversi autori E raccontano anche un po' il... come appunto dicevi tu Quindi... Ok ok No, infatti sono molto carine secondo me Sono... Sono belle, se uno vuole darsi anche solo una infarinata del... Perché magari non conosce c'è un fotografo o quant'altro Infatti... Perfetti invece che magari prendersi il libro e poi dire no che scrivi No esatto Anche perché intanto costano meno E l'unico problema che io ho con queste cose qua È che ho sempre paura di prendere tipo il primo numero E poi finire per prenderli tutti Perché ti dà un po' di fastidio dopo di non averli tutti E quindi... Infatti io ogni volta che guardo lì che mi manca il numero uno Ho un fastidio né Eh vabbè, ebay si trova insomma Sicuramente Io ho trovato... Io ho trovato tutta la collezione di questi qua Tutti 48 numeri A 200 euro Ma dai Che secondo me non è male alla fin fine Perché sono 48 numeri 200 diviso 48 fa... Qua 4 euro l'una Più o meno Dove l'hai trovata? Su ebay Ah... Non so se subito ci sia qualche roba Non ho cercato Ma sicuro Comunque le ho trovate appunto tutte Tenute bene a 200 euro Allora alla fin fine non è tanto se le vuoi avere tutte È chiaro che secondo me vale poco la pena Nel senso perché 200 euro che li spendi per avere tutte le riviste Ma ti interessa averle solo se sei affezionato le collezioni o qualcosa Perché sono comunque sottili Non è che hanno tutte ste foto Cioè la maggior parte sono foto Quindi c'è poca descrizione Ok Però poi è carta tipografica di quella degli anni 80 Quindi insomma le stampe non è che siano comunque incredibili Perciò 200 euro magari non ce li spenderei Però avendole trovate Poi ho anche i due wordpress foto che avete visto sugli IGTV Quindi insomma Secondo me sono comode se ti va appunto come dicevi tu prima Di approfondire un fotografo E magari non hai voglia di prendere un libro a 30 euro Ti prendi una rivistina così Sono belle Poi le prefazioni sono molto carine E quindi oggi abbiamo tutto un set Ha chittato tutto un dolly Tutta una fotografia particolare Tutta una cosa diegetica Per mostrarvi effettivamente Questa è una rivista insomma Oggi magari vediamo una Perché probabilmente sarà difficile Anche perché Quello che volevamo fare È non solo farvi vedere le foto che ci sono Adesso scusate il microfono Sto cercando di sistemare il setup Ma effettivamente Farvi anche Cioè leggervi anche Quello che c'è scritto nelle prefazioni Perché è un po' difficile magari a video Leggerle con noi Però Se riusciamo a farvelo A leggervele No insomma Teino tattico Allora ragazzi Io sistemo la situa Intanto Max ci racconta Una barzelletta Di Totti Allora aspetta Ce le hai una pronta All'uso Aspetta Pazzesco Guarda lui Cerco subito Nel tuo libro Dovevi dire che cerchi subito Nel tuo libro Di barzellette Di Totti Vediamo come siamo messi Con la fotografia Allora Totti va Aspetta che è partita pubblicità Totti va ad un negozio di elettrodomestici Per comprarsi Uno stereo Il commesso gli fa Salve cosa desidera E Totti Dammi uno stereo Ed il commesso Sony E Totti No Non so sonà Puan 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 Salutiamo il capitano Il capitano C'è solo un capitano C'è solo un capitano signori Ce n'è solo uno Vediamo cos'è che c'ho in mezzo Perfetto Allora Qui la scena è abbastanza Acchittata In modo Onesto Quindi Ci rimpiccioliamo molto Noi che tanto non vi interessa vederci Ma Ecco qua Ci rimpiccioliamo veramente Una cosa indecente Quando siamo Quando siamo piccoli adesso Diventeremo molto effimeri Molto effimeri Bravo Mi piace Mi piace Mi piace Dov'è l'alert Goal qua L'alert box Dov'è Ok magari lo spostiamo L'alert box Cristo santo Ok Lo sposto in alto In questo caso Bene Ragazzi State con noi Bear with us Bene così Allora Io ho acchittato tutto Mi tolgo i guanti Da poraccio Scusate Fa un freddo Bestia qui Quindi Sono quei guanti Ancora Anche in casa Tivo su le maniche Sulle maniche Non lasciateci amici Non lasciateci Bene Allora Possiamo partire Con la Transition Ecco qua Tanto vedete anche i miei tatuaggi Così Bene Magari il mouse Forse è un po' più scomodo Qua Però va bene A noi che ce ne frega La qualità ci ha rotto il cazzo Però magari alzo un po' La musica sotto Che è sparita Un po' da pinna Quindi molto bene Io partirei dal Franco Dal maestro Franco Da Franchino Perché Volevo partire da qualcuno italiano Insomma perché Giusto Giusto Piuttosto che partire da qualcuno di famoso Cioè potremmo partire da Da Werner Bischoff Cioè da qualcuno Da Ernst Tass Qualcuno di super No no C'è anche la rivista di McCurry Che io non ho Però quella sarebbe stato incredibile Partire con quella Con qualche bell'insulto A noi Ciao Fede Ciao Fede Uè Quindi Mi pareva un po' stracciata Iniziare con qualcuno In un certo caso Quindi ho detto Partiamo con qualche italiano Con qualcuno Tipo il maestro Franco Pina Di cui non ho mai sentito parlare Quindi Non è neanche giovedì E ci sono Sto migliorando Bravo E con il preavviso Che abbiamo dato Che era praticamente zero Sei stato molto bravo Devo dire Sì infatti Ci hai stupito Esatto Quindi devo dire Bravo bravo Complimenti Complimenti Come potete vedere Io ho questo dolly Davanti alla faccia Quindi scusatemi Ma questo Questo bel Ecco guarda così Sembro Ecco Ciclope Guarda che bello A pianto devono guardare Il coso Esatto Sembra che ho degli occhiali neri Mi esce proprio il naso Tipo qua in mezzo Fra il buco della È vero Stai guardando al microscopio Pazzesca sta cosa Pazzesca Pazzesca Bene Allora I grandi fotografi Facciamo un po' di Vorrei farvi una smr Ma il microfono non becca Tutti i rumorini Della roba Quindi Facciamola Lo fai Come va di moda Ma un po' Maneggiamo il prodotto Il prodottino E leggiamo dietro Vediamo Dovrebbe Ditemi se vedete tutto bene Se riuscite a leggere Sono contento Se non riuscite Leggo io in ogni caso Già in ogni caso Ve la leggo la roba Però Sì leggi perché si vede poco adesso Sì 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 Ma volevo capire se loro Cioè se si riusciva a seguire Ok La collana I grandi fotografi Presenta in splendidi volumi Il più vasto e significativo panorama Della fotografia mondiale L'opera è diretta da Romeo Martinez Uno dei più celebri storici della fotografia Con la collaborazione di Brin O'Brien Campbell Campbell Consulente della BBC Per i programmi fotografici Quando una volta Faccevano dei programmi fotografici Programmi fotografici Teledirette Attenzione Bene Quindi ora possiamo aprire La nostra rivista Vedere chiaramente qua Il logo Di Franco Pinna Andiamo un po' Sciavali Qua Come si diceva prima In privato Le foto a doppia pagina Sempre belle Alex Huggott Ma a fine live C'è pure il momento In cui strappi le riviste Per protestare Contro la massificazione Della fotografia Mi do fuoco In senso chiaramente Figurativo Do fuoco Perché fa freddo E mi scaldo Ma Chiaramente Ci dice Ciao Però no Purtroppo no Anzi guarda Ce ne ho alcune doppie Quindi potrei Però essendo che sono riviste belle Lo facciamo con quelle brutte Sì guarda Ho l'occhio del fotografo Di là Lo tiro fuori Lo strappiamo Lo gli diamo fuoco Non lo mangio Perché ho paura di diventare No che schifo Ho paura di mangiare quella merda Però Mangi del piobbo Andiamo avanti Oh qui E adesso infatti c'è la parte di introduzione Che leggiamo magari un po' Andavanti Quindi Stay with us Allora Vediamo un attimo Devo capire come Perché devo guardare anche Sì se vuoi leggere spezzoni Ma più che altro Sì No magari la leggo anche tu tanto Dovebbe essere abbastanza veloce Un isolano a Roma Questo è Franco Pinna Negli anni 60 Guarda notate già quanto Insomma Che uomo Che capelli Che uomo Pazzesco Fare determinate cose Pazzesco Pazzesco Devo abbassare la musica Perché ce l'ho nell'orecchio A 100 Ok Perfetto Voglio che sia molto bassa In senso così Twitch non ci spara nemmeno Magari Aveva meno di 20 anni Per vivere raccoglieve Disinescava mine Questo nell'immediato Dopoguerra Dite un po' Mi permettete di montare? Domanda all'uomo Dai capelli rossi Che sta al volante Andate molto lontano? Non saprei Piuttosto lontano È Dos Passos Sono le ultime battute Di Manhattan Transfer In Italia New York Lui leggeva Dos Passos E subito Come per migliaia di giovani Che scoprivano allora La letteratura americana Il suo pericoloso lavoro Non era più il solo modo Di fronteggiare La miseria del dopoguerra Era l'avventura Era la strada aperta Tutto l'avvenire è là Nel fiume brumoso Nel miraggio del ferry Che ingrandisce Con la sua fila di lumi Come il sorriso di un Nero C'è un problema C'è un problema Attenzione Questo l'avevo già notato Facendo gli IGTV Che viene usata Molto spesso La N-word Ah ok Io ci stavo per cascare Devo stare attento Però ragazzi Se succede Che per caso Si legge Vabbè Se si è letta Se si legge eccetera Vogliamo far sapere Comunque a Twitch Che noi ovviamente Ci dissociamo Dall'utilizzo Improprio di queste parole Chiaramente Prendiamo le distanze Assolutamente Dall'uso di certi vocaboli Però Sono contestualizzati Nel contesto storico Non ci censurano i libri Non censuro i libri Do in pasto a Twitch Il fatto che Noi non siamo d'accordo Con l'utilizzo Di questo vocabolario Molto colorito Quindi evitiamo Grazie Così pensava Jimmy Herff Il protagonista del romanzo E così si abituava A pensare Franco Pinna Che nell'anno in cui Era stato scritto Quel libro Il 1925 Era nato In Sardegna Alla Maddalena L'isola ti resta dentro E sei per sempre isolano Il tuo primo amico Confidente Referente Sei tu stesso Poi lo circonda Roma Dove arriva e dove vive E Roma è il mondo Roma è il potere E le bidonville È la visita Dei capi di stato E la plebe Che nei secoli Resta plebe È le luci di via Veneto E la penombra Del suburbio È l'America Qui riprodotta Amata scimmiottata È il sud Stradipante Nell'immigrazione Perché a Roma si può Prima sminatore Poi vende cravate Ma ha anche altre esigenze Vedere e capire Registrare con un mezzo Che non sia solo la memoria Che è già detta Scusate Ok Che è già detta E non più ripetibile Dopo una serata Con gli altri Davanti al frascati E che non sia la penna E il pezzo di carta Che con le sottigliezze Della grammatica italiana Lingua peraltro Strana e straniera Non gli restituiscono Nell'insieme Nella ricchezza dei particolari L'altro mezzo Di registrazione Quasi naturale A Roma in quegli anni È costituito da un obiettivo E da una pellicola Così Franco Pinna Interprende la strada Del cineoperatore Ma un filmato è A suo modo oggettivo La pellicola sceglie lei Nella cadenza meccanica Della cinepresa Come articolare Fotogramma su fotogramma Il movimento E poi la scelta di questa O quella sequenza La fa il regista Prima durante E dopo la ripresa Lui che gira Pinna Ressa tagliato fuori Dal risultato del suo lavoro Non gli va Se vuoi vedere Capire e registrare Devi sapere Che poi sceglierai tu Va bene l'obiettivo Va bene la pellicola Ma Pinna vuole scegliere L'immagine da fermare Anzi Sente che Per comunicare davvero Quello che ha visto Capito Di immagini Ne deve registrare Mille Stampare 100 E metterne in circolazione Dopo un'attenta scelta 4 o 6 Non più di 8 Un procedimento Che il giovane Fotoreporter Sardo non lo sa ancora È quello di Life Di Paris Match E di Stern Quella singola immagine O quell'insieme di immagini Che sostituiscono I 24 fotogrammi al secondo Che nel cinema Provocano l'illusione Del movimento Che sostituiscono Le carrellate Le carrellate del Dolly Le panoramiche La ricerca del dettaglio E l'alternanza dei campi La grande fotografia Corsivo Che Pannunzio vuole per il mondo Il documentario fotografico Che Guido Aristarco Propone Su Cinema Nuovo Sto inquadrando tutto Attorno a Pinna Ci sono stimoli Interessi Proiezioni Che allora sono comuni A importanti gruppi Di giovani intellettuali Anche se lui Non entra mai A farne parte Uguali gli entusiasmi Spesso parallele Le scoperte letterarie Lo stesso bisogno Di trovare un nuovo linguaggio Coinvolgente Allargamento comunicativo E perciò Profondamente democratico Non lo sta facendo Con il neorealismo Il cinema Non lo stanno facendo Lavorando sulle strutture Stesse della lingua Vittorini e Pavese Franco Pinna cerca Questo linguaggio Con la sua Leica E più tardi Con la sua Pentax Attenzione Ma nell'editoria italiana Nella macchina Che sforna i quotidiani E i settimanali illustrati Non predominano Le intuizioni Le provocazioni Le ricerche Dei Pannunzio Dei Benedetti Dei Vittorini Dei Aristarco E la stessa fotografia Nella stampa italiana Degli anni 50 Esprime un ben diverso Indirizzo editoriale I grandi fatti Della cronaca nera Passionali Sanguigni Le storie Grigiorosa Le storie Grigiorosa Ah le storie Grigiorosa Ok scusa Le storie grigiorosa Degli ex Agnanti spodestati Faruk nuovi e vecchi Soraya Il tourbillon Degli amori E i figli Poveretti Così belli Ma destinati A restare senza trono Le memorie I regnanti del regno Che esiste ancora Margaret E l'ultimo Toflirt L'America Che attraverso I grandi speciali Special diramati Dalle agenzie È protagonista assoluta Con centinaia di immagini Che indicano al mondo All'Italia Che indicano al mondo All'Italia La via da seguire L'American Way of Life L'altra America Quella a pochi chilometri Da via Veneto Cinecittà Le prime reginette di bellezza Che presto escono Dall'annominato E si chiameranno Mangano Bosè Lollobrigide Loren E tanto Coppi E tanto Boniperti Tre quotidiani del pomeriggio Nella capitale Si fanno una spiatata concorrenza A colpi di titolo A nove colonne E a foto drammatiche Sparate a tutta pagina Quattro i concorrenti Della sera Mirano E concorrenza Tra Milano e Roma E i settimanali Due attualità Ciascuno dei quali Cerca di stornare Il pubblico Dagli altri Con l'ultimo scoop Con la storia Strappo a cuore Facendo leva Su sentimenti Speranzi Illusioni E' un gioco duro E faticoso Fotografo Tu cerca di saperlo prima Quello che succederà Trovati sul posto Torna col rullino Stampa presto E arriva prima degli altri Nelle redazioni O inventatelo Il servizio E fai che il collega Non sappia E non te lo possa copiare Rapina L'incontro segreto Ma non troppo Sei al night troop Tarpea Dell'attrice con il playboy Prenditi anche lo schiaffone Paparazzo Fatti sfasciare la rolli Ma solo dopo che l'immagine È in salvo Nella borsa Beh ecco Noi prendiamo le distanze Dallo sfasciare le rolli Ecco con tutto questo Franco Pindan Non ha nulla a che vedere Beh bene Perfetto Due pagine Di questa cosa qua Non so se sei presente Ma Chi di voi Ha mai provato a leggere Tipo L'Iliade O l'Odissea Si scontra subito Nell'Iliade Soprattutto All'inizio In questo In questo muro di testo In pratica In cui ci sono Otto pagine Di spiegazione Dei nomi E dei patronimici Dei vari soldati Quindi è tutto L'esercito Della Grecia E quindi c'è tipo Il Pelide Achille E va bene Poi ti spiega il perché Perché figlio di Peleo Blablabla E poi ci sono tutti i nomi Dei soldati Con tutti i patronimici E tutte le spiegazioni Ed è tipo Dieci pagine Di quella roba Vabbè Comunque Quindi è stato inutile No vabbè dai Non ha nulla a che vedere Ecco Ecco Con tutto questo Franco Pindan Non ha nulla a che vedere Nel 1952 Entra a far parte Della spedizione Di Ernesto De Martino Che parte per il sud Per ricostruire Con una ricerca interdisciplinare Etnologia Musica e foto L'itinerario lucano Di Carlo Levi La spedizione universitaria Che muove verso il mezzogiorno Non è motivata Soltanto dal fatto Che in quella parte Dell'Italia Più rintracciabili Sono le tracce Della magia Il paganesimo Le forme antiche di vita Che persistono Nei rapporti Già nelle prime settimane Dopo la liberazione del sud Grandi mobilitazioni contadine Avevano cominciato A rivendicare L'assegnazione Delle terre incolte O mai coltivate La fine degli anni 40 Era stata un crescendo Di lotte popolari Con i due vertici sanguinosi Degli Eccidi Di Portella Della Ginestre Di Melissa Nel 1945 Era stato pubblicato Cristo si è fermato a Eboli Conosciuti a pochissimi Durante il fascismo Ora circolavano largamente I testi sul meridione Di Antonio Gramsci E Guido Dorso Il sud diventava Questione nazionale La democrazia Da Vediamo un attimo L'editoria Vabbè Queste sono citazioni Delle pagine Quindi La democrazia cristiana Dava una svolta All'elaborazione Di Don Sturzo Mettendo al lavoro Su un livello Completamente nuovo Un efficiente Giovane economista Pasquale Saraceno Vediamo se sono Sì Il partito comunista Dopo i Grieco I Sereni E i Di Vittorio Indirizzava All'approfondimento Della questione meridionale Una nuova generazione Gullo Amendola Licata Il ministro socialista Morandi Promuoveva la formazione Dell'associazione Per lo sviluppo Del mezzogiorno La Svimez E il suo partito Dava ampio spazio All'impegno meridionalista Di Francesco De Martino Nell'area laico-democratica Emergeva Manlio Rossidoria Le riviste del sud E sul sud Si moltiplicavano È in questo quadro Che il sud coinvolge Anche i docenti universitari Che da Roma Parte la spedizione Di Ernesto De Martino Quel pomeriggio Il professore Aveva riunito I suoi collaboratori Per le ultime disposizioni Prima del viaggio E ho anche trovato Il fotografo Aveva detto Immagini precise e pulite E poi è un sardo Ed è comunista Sento il problema Fino in fondo Grande Riunioni Discussioni piani E poi via via Che la spedizione avanza Il progetto primitivo Seguire il percorso Di Levi Di Levi Quello di Attack on Titan Attenzione Cambia Sono gli incontri sul posto I suggerimenti Delle persone Che danno nuove direttrici Ancora riunioni Messe a punto Verifiche tentativi Dietro ogni immagine Delle terre del silenzio Le terre del sud Riproposte da Pinna C'è tutto questo lavoro preparatorio Fatto di idee che si incrociano Si scontrano Si alimentano a vicenda Ma non sarebbe stato possibile dirgli Fai questa o quella foto Ricorda il professore Diego Carpitella Il musicologo della spedizione Eravamo un'equip Certo Ma Pinna lavorava da solo Confrontava la discussione collettiva Con i volti Le cose che poi si trovava Si trova Mi sono perso Ma Pinna lavorava da solo Confrontava la discussione collettiva Con i volti Le cose che poi trovavamo In concreto Scattava Accumulava immagini E le foto che servivano Alla spedizione C'erano sempre tutte Alcune di quelle immagini Sono al Museo delle Arti E Tradizioni Popolari di Roma Altre al Parapsicology Foundation Di New York La maggior parte sono raccolte Nei libri curati e scritti Da Ernesto De Martino Il libro sulla sila Uscirà nel 59 Nella serie fotografica Dell'Automobile Club Italiano Curata da Lorenzo Camusso Con le didascalie di Bruno Schacherl Un libro che ha una finalizzazione Turistico-documentaria Ma che mostra la costante attenzione Di Pinna all'uomo Al suo mondo e alla sua condizione La particolarità della sila greca Degli strumenti musicali alla tessitura Dai codici all'arcivescovado Al poeta popolare Dagli scavi della Quarta Sibare Ai ricercatori di uranio Del Comitato Nazionale Per le Ricerche Nucleari Dai pani dolci sagomati In figurine Alla diga Dai pani dolci sagomati In figurine Alla diga Che segna l'inizio Della costruzione Di infrastrutture Danno a questo volume Un carattere ben poco turistico Folcloristico L'immagine è accurata Il movimento è fermato Nel momento che consente Di comprendere nello sviluppo Il fuoco è sicuro E non si avvale Di funambolismi d'effetto Il soggetto a volte È rivisitato in più scatti I volti singoli E poi il gruppo In cui i quei volti si parlano Pinna sarà con De Martino A più riprese Nel corso di oltre un decennio Tra un viaggio e l'altro Continua la sua attività normale Di fotoreporter Del fotoreporter freelance italiano Non dipendente da giornale O da un'agenzia È stato detto più volte Che ha dovuto fotografare Quello che non gli interessava Per pagarsi il lusso Di fotografare Quello che sentiva più vicino Alla sua sensibilità Alcuni freelance Per questo motivo Non hanno lasciato l'Italia E sono andati presso Grandi rotocalchi O agenzie estere Altri hanno abbandonato Il fotogiornalismo E hanno proseguito La moda, la pubblicità La fotografia industriale Anche Franco Pinna Di tanto in tanto Ha fatto qualche servizio Che non lo affascinava particolarmente Pochi però Molto pochi Molti Beh Pochi però Molto pochi In realtà Ha sempre cercato Di vivere facendo le cose E soprattutto I servizi fotografici Che gli piacevano Due linee percorrono Tutta la produzione di Pinna Un rifiuto sdegnoso Della società dei consumi E un tono umile Scarno Mai celebrativo E mai trionfalistico Delle sue immagini Il latinista Luca Canali È stato tra i suoi primi amici A Roma Quando ancora vendeva cravate Un giorno me ne regalo una E questa amicizia Ha poi portato avanti Negli anni Fino al 1978 Anno della morte Del fotografo Scusate ma io devo mettermi gli occhiali Stessi Il rigore professionale di Franco Pinna Invece di stampare a contatto Ingrandivamo i fotogrammi Nel reimpossessamento Nel reimpossessamento della sua Sardegna Poveri baraccate al vicolo del Mandrione Pubblicati dall'espresso Da panorama Da epoca Su avvenimenti italiani E sui lunghi viaggi all'estero Che Pinna intraprende Tra un film di Fellini e l'altro Fra un po' dovrebbe essere finita L'introduzione Penso Sì Andiamo veloci E c'è una vasta presenza di Pinna Nella grande stampa internazionale Sul Sunday Time Su Stern Su Live E su molti settimanali americani Pinna pubblicherà più servizi Di quanti non ne abbia pubblicati in Italia Intanto ciao a tutti quelli Che si stanno collegando Se ci sono robe Ditteci Negli ultimi tempi Sì esatto Ci sono domande Ci sono cose Voi non preoccupatevi Fate Siamo in due Quindi riusciamo a gestire tutto Negli ultimi tempi Testimonia il professor Diego Carpitella Gli era ripreso Un gran interesse Per il suo lavoro nel sud Curò meticolosamente Si impegnò molto Per preparare la mostra Sulle terre del silenzio Lo vedevo spesso in quel periodo Lui tornava dai viaggi Mi portava delle cose Avevamo un nostro gioco Di scambio di pipe per esempio Parlavamo e mi rendevo conto che Dopo tanti anni di altri lavori Soprattutto nel cinema con Fellini Recuperava quella stagione Che per lui era stata Non solo professionale Ma profondamente vissuta Umana Tre giorni Vado in Sardegna e torno Aveva detto agli amici Invece ci restò almeno tre mesi Chi gli è stato vicino Soprattutto nella zona di Orgosolo Orgosolo Racconta che Appena arrivato Rimase a fotografare Per ore e ore Un'intera giornata Ma poi si ficò in testa Un berretto Sedete al bar con gli uomini Della sua terra Si mise ad ascoltare Anche lì Non ha chiesto a nessuno Che cosa c'è da fotografare La ricerca dell'immagine Da fissare Seguiva altre vie Ancora una volta Vedere e capire Poter ricercare l'uomo Nell'ambiente Nelle cose Negli incontri Perché si è visto Si è capito l'uomo L'uomo in carne e ossa Un ballo Un girotondo campestre Vi appare solo a pagina 30 Ma dell'uomo Nella sua invisibile presenza Sono impregnate tutte le immagini Che precedono la fotografia del ballo Le domus dei janas Sepolcreti sotterranei Che imitano nella pianta Le case dei vivi I nuraghi Gli ex voto E le tavolette votive Gli amuleti annunciano Che l'uomo c'è Che crede in tutta Una determinata serie di cose Che è immerso In una realtà sociale E naturale Così Dopo la fotografia del ballo Si dipandano le immagini Delle processioni religiose Del cristianesimo Pagano E naturalistico Del popolo pastore E da questa si passa direttamente Alla natura Al cavallo Al rapporto uomo-natura L'uomo e cavallo E l'uomo che prepara Ritualmente Per la grande festa religiosa O pagana I maialetti arrostiti Dopo questo inquadramento generale Pinna scava E approfondisce l'indagine I costumi L'artigianato Le ragazze Gli sposi La donna che fa il pane E la donna che lavora nei campi Il tutto scadenzato Dalle maschere Dalla teatralità Di movimenti Che sono insieme Esperienza Consapevolezza E dito Orgosolo Orgosolo Non so bene Orgosolo L'uomo Che è stato per anni Latitante Un protagonista Ma nell'immagine Ma nell'immagine Non c'è enfasi È un pastore Fra i pastori Fa le stesse cose Magari è più scavato Dalla più dura vicenda di vita Ma è parte integrante Insostituibile Dell'insieme di quel mondo Il lavoro Pastori Contadini Pescatori Minatori E anche le promesse Della rinascita Sviluppo delle comunicazioni Scuole per anziani I bambini I giovani La coppia Potenzialità di un domani Ma un non trionfo Dell'avvenire Non messaggio di sicura evoluzione Verso un mondo Su cui Pinna Resta profondamente prudente E sostanzialmente pessimista Nel 1963 Franco Pinna Ritrova l'ambiente del cinema Dove aveva Giovanissimo lavorato E trova Fellini 12 anni dopo In occasione Della mostra Delle terre del silenzio Organizzata nel centro San Domenico Di Bologna Il regista Lascerà una lunga testimonianza Su questo suo particolare collaboratore Chi è Pinna Per Fellini Mi ha sempre un po' incuriosito E anche un po' divertito L'esattezza testarda Con cui Franco Pinna Sembra contraddire L'immagine Che uno ha Del fotografo Sempre agitato Perversante Che spara flash Sull'onda di una casualità Che può essere più o meno felice Pinna no Lui si lascia calare Dentro le cose Con la lentezza Meditabonda Di un ruminante Perfino la sua attenzione A ciò che deve fissare Con l'obiettivo Non è mai estroversa Golosa Ma fa piuttosto pensare A una specie di concentrazione Interiore Incurante di ogni assillo esterno Incurante addirittura Anche di ciò Che vuole fotografare Tutte le volte Che ha seguito I miei film Come fotografo Ho sempre avuto l'impressione Che mentre io ero arrivato Alla fine delle riprese Pinna stava ancora Fotografando le prime scene Un po' come un augusto Il clown straccione del circo Bistrattato e stordito Che si prefigge Di fare una fotografia Accigliato e silenzioso Prepara tutto Con cura minuziosa Con lentezza esasperante E già un'immagina Che la fotografia Naturalmente non verrà O perché l'apparecchio Schizzacqua All'improvviso Il magnesio esplode In modo catastrofico Spengono le luci All'ultimo momento Questo è successo Con me e Mike A Venezia Che io ho chiuso le luci Dopo che lui ha scattato Quindi va bene Quindi sono un po' un pagliaccio Grazie La luce Mi sono perso Spengo la luce All'ultimo momento E nel buio L'augusto è rimasto Solo a trafficare Nel circolo mai vuoto Poi invece Sorprendenti risultati E allora ti accorgi Che per una sorta Di istinto Di talento naturale Pinna è riuscito A trattenere il momento giusto La luce esatta Un'emozione vera Un'emozione vera Anche fuori dal lavoro Pinna ha l'immobilità Certi mutismi Il candore rude La seriosità leale Di un cowboy Abituato alle grandi solitudini Agli spazi senza fine Più che guardarle le cose Sembra ascoltarle E forse per questo È riuscito a raccogliere Con impassibile penetrazione Il silenzio mortale L'abbandono straziante La fossile immutabilità Di certe realtà Del nostro paese Illustrate in questa mostra Insomma Rimasto solo L'augusto fa sul serio La solitudine di Pinna Sul set felliniano Colpisce anche il suo vecchio amico Luca Canali Io ho fatto la consulenza Per il satiricon Dice E si veniva a creare Una situazione Che poteva apparire strana Franco lavorava Con Fellini da anni Io per la prima volta Eppure parlavamo insieme Molto più Molto di più Io e Fellini Che Fellini e Pinna Lui se ne stava in disparte Estremamente cauto Nessun atteggiamento Nessuna concessione Che gli entelare Nei confronti Del grande regista Franco lavorava Con la sua ostinazione Con il suo valore professionale Con il suo orgoglio Che poi era L'estrema inseplicità Di un uomo di base Di un democratico plebeo Che non si concede Qui a destra Tra l'altro C'è una foto Di Fellini del 66 Gli special su Fellini Apro una francopina Le porte Della grande stampa Internazionale Il studio Gli aveva consentito Di collocare Le sue immagini Nelle prestigiose Gallerie antropologiche New Yorkesi Fellini campeggia Invece su Vogue Tuttavia sarebbe sbagliato Ritenere che questa esperienza Rappresentasse un rifugio tranquillo Dopo la fase sociale Si è detto Dei freelance italiani Che sono emigrati all'estero Di quelli che hanno abbandonato Il fotoreportage Per le specializzazioni Di quelli che per fotografare Ciò che sentivano Più vicino alla loro sensibilità Dovevano fare servizi di routine Dignitosi ma che non amavano Il lavoro di Pinna Per e con Fellini Non è questo Prima di tutto È un grosso arricchimento professionale Gli special sul film In lavorazione sono a colori Devono essere Photocolor perfetti E colori felliniani L'uomo del bianco e nero Di quei grigi terzi E variegati Che riproducono La presenza del colore Ma del colore non hanno bisogno Deve fare nuovi conti Con la tecnica L'uomo dell'HP4 La pellicola sensibilissima Che consente di fotografare La luce ambiente Anche quando è molto scuro Deve fare i conti Con gli spot E i parchi lampade L'uomo alieno Dai trucchi fotografici Dalle acrobazie di camera oscura Deve usare Anche se moderatamente I filtri È questo Ma non è soprattutto questo C'è il fascino Che Fellini esercita Su Franco Pinna Incomincia la collaborazione Dunque Con Giulietta degli spiriti Di questo film Il regista dice a Gianni Roghi Il mondo che viene fuori Attraverso i sensitivi I medium Certi medium Il mondo di quelli Che chiamiamo miracoli Io mi ci affascino Ci giro intorno Da dieci anni È un pezzo Che voglio provarci A raccontarlo Il Fellini Collezionista dei libri Sulla magia E sull'occulto Non può non affascinare Il pinna delle immagini Sulle tarantolate Ma Giulietta degli spiriti È anche la storia Di una donna italiana Dentro la società italiana Dentro casi italiane La sua Quella dell'amante del marito Dentro le angosce Che scaturiscono dal contrasto Tra l'educazione ricevuta E la vita che vive È anche questo aspetto Più reale Di sentimenti contrastanti E di difficoltà attuali Non possono restare strani Alla sensibilità di pinna Più avanti Con il satiricon Nuove provocazioni Nuovo fascino Luca Canali ha detto In un dibattito pubblicato Nel 69 dall'Espresso Che quella del satiricon È una società Che in realtà Assomiglia molto alla nostra C'è una certa diffusione Nel benessere Del benessere Una migliore organizzazione Delle province Con tutti i suoi limiti È pur sempre Una società del benessere Nella quale cominciano A venir meno Molti valori E molte prospettive Il parallelo Tra quella romantica E la società attuale È spinto fino a un parallelo Tra i due autori Petronio e Fellini C'è in Petronio Un senso profondo Di malinconia Di tristezza Il presentimento della morte Del disfacimento Della catastrofe Di un mondo Che tuttavia Non era affatto in regresso E tutto questo E tutto questo C'è in Fellini E quella malinconia Quella tristezza Non sono affatto estranei A Franco Pinna In satiricon inoltre Il fotografo ritrova Le sue luci Mediate Filtrate Così diverse Dall'aggressione Dei parchi lampade E degli altri set Lo stesso Fellini Confessa di aver compiuto Una scelta di luce ferma Crepuscolare Immobile Oppure il buio Vertiginoso E angoscioso Della notte Non un lavoro prestigioso Ma anche di ripiego sociale E culturale dunque Quello di Pinna Con Fellini Ma una sorta di sintonia Insieme a tecniche Fantastiche ed esistenziale Anche se i due personaggi In registra il fotografo Sono talmente diversi Per ispirazione E per intenzione Sintonia che Franco Pinna Ritroverà alla fine In Casanova Nel personaggio Dell'avventuriero veneziano Che con la geniale Dissolutezza Con la voglia di vivere E di impossessarsi Di ciò che gli permette Quel tipo di vita Che ha scelto Così cangiante Non programmata Così sensista Lo lega per più versi Agli eroi Eminguiani Eminguiani Scusate Che hanno segnato Profondamente L'iniziazione culturale E umana Del fotoreporter Devo tossire SMR Toss SMR Toss Non volevo proprio Tossire nel microfono Bene È finita l'introduzione Che è Più lunga Di quanto mi ricordavo In realtà Abbastanza prolisse Ma in generale In tutti Sì Di quegli anni lì C'erano Prefazioni Abbastanza lunghe E comunque Anche abbastanza Articolate Sì sì Però secondo me Sono carini da sentire Comunque Sono assolutamente L'idea Perché È molto bello Comunque leggere Soprattutto In autori Che non si conoscono Poi Leggere qualcosa Di appunto Di qualcuno Che non conosci Ma Sì Conso un po' Questa cosa qua Riesco anche Non averlo in testa Sto robo Vediamo un attimo Scusate Ecco Bah Ce l'ho sempre in faccia Ok E No Dicevo è molto Secondo me Interessante capire Anche Un po' Che tipo di lavoro Ha fatto L'autore In generale Con chi Ma Qui c'è un po' Di storia Molto blanda Cioè C'è la parte più importante Probabilmente Che è quella con Fellini Comunque La sua parte Sulla Sardegna Eccetera Quindi bene E adesso Ragazzi Intanto Grazie per essere arrivati Fino alla fine Dell'introduzione Adesso sfogliamo la rivista Comunque Questa è una foto Vi leggo anche Le didascarie Perché ovviamente Non so se le Non credo Riusciate a leggerle Comunque Questa è una foto Di Roma Nel 1949 I bordineri Io penso che Siano aggiunti dopo Perché sono Troppo netti Sembrano quelli Fatti con Photoshop Però Non credo Siano proprio Quelli veri Della pellicola Perché è troppo netto Però Ditemi se volete Che rallento Che vado avanti Che fermarmi su una foto Tornare indietro Ditemi Insomma Io cerco anche di farvele Vedere in modo Decente Più perpendicolare Di così La macchina Non riesco ad averla Purtroppo Questa è Roma A sinistra C'è Roma Nel 1953 E a destra Sempre Roma Nel 1953 Grazie a Davide Znn Zn Zenna Zennaro Zn Zanno Z Andiamo avanti Finché non Indoviniamo Il cognome Questa è sempre Roma Nel 1954 A destra C'è appunto Una prostituta Del mandrione Come si parlava Prima Nell'introduzione Quindi questa è Tutta la parte Molto Povera Suppongo Che pulizia Che c'aveva Pinda Minchia Veramente assurdo Ah qua Ah Bella foto Doppia pagina Vediamo di Farvela vedere Bene Senza spaccare Lo spillato A sinistra C'è il corpo di ballo Cinema teatro Di Ambra Giovinelli A Roma Queste le tipe Vestite da Da marinaio Una volta Davano molto Quanto pare L'imbarcadero A Lampedusa Nel 1960 Lampedusa Classico Porto Quanto per Sempre Sempre è stato Gran Porto Eh Teatro bellissima Lampedusa Foto incredibile Sempre bellissima Lampedusa Non sono mai stato Io ho amici Che sono stati E hanno detto Che è veramente Bellissima Prima o poi Lucania 1952 55 Lucania Credo che sia Allora Vedendo la foto Io direi Sardegna Perché mi sa Ha molto quel mood Da Francesco Cito Sardegna Però non so bene Dove sia la Lucania Quindi Lo dico subito Bene Fantastico Sei un eroe Dovrebbe essere In Basilicata Perfetto Va bene Dai Non ho sbagliato Così tanto Lucania 52 A 55 Quindi Non sono neanche Datate Focac Si è abbonato Eila Grazie Focac Grazie caro Intanto si vedono Anche gli alert Oggi Incredibili Gli alert Pazzeschi Grazie caro Grazie mille E E niente Cioè Principalmente È un supporto Pazzesco Il fatto Che qualcuno Sia buoni Con Prime O anche senza Prime Insomma Qualsiasi cosa È già Basilicata qualcosa Dice la Fran Grazie Fran Sì È un supporto Incredibile Come vedete C'è una barra sotto La dovreste vedere Sì Che adesso è 2 su 20 In pratica Quello che noi Voleremo fare Arrivati a 20 Iscritti Più per darci Diciamo un goal Per premiare Tutti quelli che sono iscritti È fare una Una Come si dice Una maratona In cui Intervistiamo Varie persone Una persona Ogni ora E appunto Chiamiamo varie persone Sempre nell'ambito Comunque fotografico O Simile Come abbiamo intervistato L'altro giorno Io ci ho provato Con Prime Ma non sono riuscito Può essere che Non hai collegato Non hai collegato Prime Perché Vedendo il tuo account Non hai la Coroncina a sinistra E quindi Devi prima collegare Il tuo account Ad Amazon Prime E poi puoi farlo Infatti Chi nasce in Basilicata Non è basilichese Come pensavo Ma lucano Pazzesca sta cosa Io non lo sapevo L'ho scoperto Da una puntata Di quattro ristoranti Quindi Grande divulgazione Quattro ristoranti L'avevo fatto Riproverò Guarda mi dispiace Allora Casomai Provo poi A vedere Se c'è Qualche Qualcosa Qualche errore Insomma Ogni tanto Sì Casomai Mi scrivi in privato E ci sentiamo Non per forza Per farti abbonare a noi Anche in generale In amicizia Mi fa piacere Se ti vuoi abbonare a noi Comunque Ti ringrazio tantissimo Ti ringraziamo Vi ringraziamo tutti Anche Michael Che oggi non c'è Vi ringrazia Insomma Bene Lucania Ah poi Chi si è abbonato Ci scrive in privato Perché Proprio In maniera simbolica Noi diamo anche Due preset Che abbiamo fatto Che sono due preset Simil pellicola Quindi In modo molto Appunto Simbolico Vi diamo anche quelli Che a noi vi piacciono Scriveteci in privato Che ve li mandiamo Sono per Lightroom E per Camera Raw Provati e riprovati Una sera Sì Abbiamo perso la vita Per farli Ma secondo noi Sono molto Sono venuti molto bene A livello Chiaramente non è la pellicola Perché Però Dobbiamo mettere Una anche sulla nostra pagina Instagram Giusto per far vedere Però Sono molto carini Sì Dovremmo fare Un post con Le varie foto Sempre foto in Lucania Mandarinaia Sì tanti Tanti alla fine Contadini a San Cataldo Nel 54 Circa E la piazza di Siliano A Potenza A destra Fa notare anche Cioè Sì È molto pulita La sua fotografia Ma anche perché Secondo me C'era anche Veramente poca gente In certe ore Del giorno E quindi Insomma Non c'era ancora Questo boom No no O grafico Diciamo No no infatti Sì Poi sì Sicuramente L'ho riuscito A prendere Anche momenti Un pochino più Più Di desolazione Ecco Però Rende Fa capire appunto Il paesaggio Anche Lucano Com'era al sud Ecco Assolutamente Un attimo Che faccio una cosa No Però Non posso fare Stea cosa così Ferma tutto Adesso cercando di sistemare Un attimo Una roba Ok Si vede proprio Che era un X photographer Eh sì Si vede il tocco Del fugista Il mouse Ok Il tocco del fugista Si vede Maddalena la Rocca La fattucchiera Di Di Colo Di Colobraro Lucania La fattucchiera Ragazzi C'è C'è Anni 50 Ma c'ha la barba Eh non so Eh non so se si vede bene Ma qua c'è proprio C'ha la barba Pazzesco Con le spille attaccate Qua sono le spille da balia Quelle giganti Attaccate sul vestito E l'altra La tarantata Maria Nardò Partendo dalla posizione di riposo La tarantata Maria Nardò Partendo dalla posizione di riposo Nel 59 Dalla terra del rimorso Di Ernesto De Martino Io penso sia Una specie di Danza Barra Scena Non so Come definirla Tarantella Dalla taranta Insomma Eh si Non sono molto Sono ferrato No Neanch'io Però Però va che roba Comunque si fra È uguale È uguale al profeta Di Vikings Lucania Nel 1952 55 Questo è un funerale Suppongo Tiene una camera Ardente Insomma La confessione pubblica Dei peccati A Lucania A destra Invece Vedo quel tizio Che porta la croce C'erano delle cose Cioè Erano proprio Sembra proprio Di andare indietro Sì madonna Sono gli anni Gli anni cinquanta Hai detto Sì questi sono gli anni cinquanta Gli anni cinquanta Erano folli Ora più indietro Sembra veramente Una vita a faccia Sono cose Guarda qua Famiglia di contadini A Lucania Io suppongo sia Sia a destra Sia a sinistra Perché a sinistra A destra c'è solo scritto Lucania Però Visto che stanno dormendo Tutti così Con i panni appesi sopra Suppongo che sia sempre Un'altra O la stessa famiglia O un'altra famiglia In cui appunto Guarda sono Una, due, tre Quattro Cinque Sei, sette, otto Nove, dieci Undici persone Sono Con tutte le scarpe per terra I panni appesi sopra Cioè Veramente belle Veramente belle Sempre Lucania Sì Sì, cioè Guarda qua Qua sembra veramente Cioè Un villaggio Praticamente Guardando la foto Grande a sinistra Tutto fatto di Tutto fatto con i rami Con Maglia Sì è È veramente pazzesco Donna con fazzoletto Bellissima Tra l'altro Incredibile Il gioco della falce San Giovanni in fiori Nel 59 Questo è mattissimo A proposito di fotografo simile a Pinna Ho una richiesta per la prossima domenica Un approfondimento su Mario Lasalandra From Est Lo segno Gli hanno fatto anche un documentario Ma si riesce a vedere qualcosa? Grazie Street in Ice che ci ha riuscito Grandissimo Pazzissimo Grazie mille caro Ma si riesce a vedere il documentario fra? Mario Lasalandra Tanto l'ho segnato Ma Mario Vediamo un attimo Nato Beh ancora io Ho visto che è nato nel 33 Ok comunque è segnato E Approfondiamo un po' E vediamo se riusciamo a vedere qualcosa Se riusciamo a far vedere qualcosina Perché Lui è del 33 Quindi Suppongo che non sia Vendo il DVD Ve lo spedisco Lui è ancora vivo Ma non si vede in giro Eh minchia Lui è nato nel 33 Quindi vuol dire che ha tipo 90 Quasi 90 anni Capisco che non abbia voglia di muoversi Immagino Comunque Ci organizziamo Se lo troviamo Lo guardiamo volentieri No farà non stare a spedire No infatti evitiamo Massimo lo prendiamo Cioè in senso Fa piacere comunque A destra Il convento di Serra San Bruno a Calabria Nel 58 Dalla Sila di Ernesto De Martino Anche qua Cioè conventi veramente Pazzi E i conventi sono sempre stati un po' pazzi Qui c'è qualcosa di importantino Questo è Charlie Chaplin al circo Arrivo è perché io sto guardando la live Eh sì sì immagino Perché non riesco a condividerti la schermata Questo qui è Charlie Chaplin al circo Guardate anche un po' come era impaginato Come è impaginata qua la Il libro La rivista Cioè secondo me è molto bello Molto folle come cosa Perché rende proprio l'idea del circo E quindi Questa situazione Di appunto Di essere circondati No no ma secondo me è molto bello Rende molto Sì come dicevi tu Chaplin Pazzissimo Infatti quando l'ho visto Ho detto Ma chi cacchio è questo qua Sembrava un politico Poi ho visto solo Ho visto che è in Sardegna Figa questa impaginazione Eh sì Alex Ah è in Sardegna Ok Quindi Or Boh non so come dirlo Infatti Orgosolo Orgosolo Dov'è la Sara Quando serve Infatti Comunque anche qui Cioè La Sardegna La Sardegna è sempre stata incredibile E ancora lo è Ma negli anni 50 E 60 In provincia di Nuoro Quindi dovrebbe 1.000 entroterra Ok 4.000 abitanti Ah beh Onesto Adesso Adesso Nell'epoca Ne saranno stati Tipo 7 Allora Il canto delle prioresse Al venerdì santo Questa foto qua È pazzesca Un po' tutte Per carità però Campagna nuorese Nel 60 Guarda che Sono tipo 20 persone Che vanno in giro A cavallo Come nel west Ah beh Guarda che lì c'erano I banditi Fino a un certo Vabbè Non ancora Dicono Pastori all'osteria Cantano il coro Col classico Col vinello Bravi Anche io vorrei Un vinello Adesso Ma secondo me Non esisteva l'acqua Probabilmente Infatti Con i bicchierini Piccolini da ombre Come si dice a Venezia La giostra Roma del 60 Con la macchinina D'epoca Perfetto E host del 63 Da Il giornale delle vacanze Servizio per la televisione Quello a destra Cioè Questo è un servizio Per la televisione In pratica Cosa che adesso Non credo che Non credo che Una televisione Voglia Delle foto del genere All'epoca A quanto pare Andava Adesso Se non fai foto Ci sono le fighe In spiaggia Assolutamente Marcia per la fratellanza Perugia Assisi Marcia della pace Ad Assisi 1960 Matti Matti Guarda questo qua Non so se si vede Questo qui è Mega figo Con la camicia aperta Con le maniche tirate su Con la canottiera Mega figo Sì 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 E a destra è Silvano Bussotti Con il suo assistente Questi Mi fanno spaccare Le destra Sono Fantastici Lui sembra un po' Stannis La Rochelle Che vero Attenzione Queste foto qua Io le avevo già viste Perché avevo sfogliato Dimmi quando ci sei Anche tu Max Sono ancora Stannis Ok Ok Vaca voi Questa foto qua A sinistra è Fuori dal mondo Secondo me Anche queste qui a destra Allora A sinistra c'è Silva Coscina Coscina In Giulia degli spiriti Di Federico Fellini Nel 65 Poi c'è Caterina Boratto Sempre Giulia degli spiriti Di Fellini E in basso Luisa Della Noce Luisa Della Noce Scusate Che bello Cavolo Queste foto qua Sono E Wes Anderson Muto Zitto No poverino Però sì Foto Queste due Queste tre Sono Folli Io quando l'ho aperte Quando ho aperto la foto Cioè questa qui a sinistra Mi fa volare Però Immagino che ci sia anche Molto del Insomma Della questione Molto anche Cioè non sia solo La foto di Pinna Ma ci sia anche il fatto Che i vestiti Sono stati scelti Erano del film Insomma Tutto il contorno È anche molto bello Sì sì È tutto bellissimo Però anche la posa È veramente Tutto incredibile Colori belli Quelli che piacciono a me Vaporwave Azzurrino E I clowns Di Federico Fellini Del 70 I falegnami Preparano il funerale Del clown Fischietto Fischiagrilli Da I clown Di Federico Fellini Sempre Sempre del 70 Con la destra Tra l'altro Sembrava un dipinto Io quando l'ho visto Non pensavo fosse una foto Mi fa morire Cioè è bellissima Qua secondo me La scena E tu guardi La scena Effettivamente Però qua c'è un tizio Che sta controllando Che vada tutto bene Completamente fuori contesto Lì perché È vestito in tutt'altro modo E cioè Senza sarebbe stata Tutta un'altra foto Va sta foto qua a sinistra Ah sì sì Aspetta Sì sì No vai tranquillo Vai tranquillo Anche così Se la godano anche loro E tra l'altro Questa roba qua Cioè non è Non è un riflesso Questa cosa qua Quello è il fumo Che c'era Cioè era la polvere Che c'era lì Cioè l'incenso Scusa probabilmente Sì beh Era stato l'incensiere Tipo Esatto Pazzesca Roma di Federico Ah aspetta Questa è Roma Federico Fellini Le 72 E a destra Situazione in una casa Di tolleranza popolare Nel 36 Da Roma Di Federico Fellini Nel 72 Che belle cazzo Il restauro Dopo l'alluvione Firenze 1967 E Israele Negli anni 70 Questa è un'altra foto Altre due foto Pazzesche La foto di destra Com'è attuale Quella di Di Israele Sì di Israele Perché anche a livello Di No io dico Il ritratto Sì 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 Quello che Quello di prima Sì 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 E Ce ne vedono tanti Adesso di ritratti Fatti appunto Di situazioni Tra virgolette Di strado Di reportage Di questo Di questo genere E qua siamo 70 anni fa Eh sì sì Infatti Per dire come Comunque Certe Note Di stile Diciamo Rimangano Nel tempo Perché Funzionano Questa è Cina Degli anni 70 Inche questo è incredibile La foto della muraglia Cioè io pensavo fosse dipinta Anche questa qua Che paesaggista Che gran paesaggista Cioè Pazzesca La foto Questa qua Della muraglia Per tutti i lavori Che ha fatto Per tutte le testate Che ha fatto Era veramente Un fotografo A 360 gradi Sì sì Pazzesco Anche perché Penso che molte cose Gli furono commissionate Insomma Eh a quanto pareva Sì Cioè Perciò si doveva Abbastanza Ci deve essere capace Un po' di fare Diciamo un po' tutto Questo è Urs Nel'anno 70 Anche qui c'è Queste qua Entrambe incredibili Sì 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 Ma Quella destra è folle Pazzesco Oh siamo alla fine Mi sa Albania Anni 70 Anche questa Incredibile Sì Quello è proprio bello Cioè loro sono felicissimi Che hanno questi fucili Sti fucili sulla spalla E loro sono Cioè Sono bellissimi Tra l'altro Sembrano proprio Cioè se lui toglie Tipo la divisa E Sembra proprio Una persona normalissima Super tranquilla E uno che trovi per strada A far la spesa Bene Va bene Leggiamo la Outroduzione La parte finale Insomma dai Così abbiamo fatto Tutto completo Abbiamo fatto un'oretta Quindi io direi Che possiamo farne Solo una Per oggi Facciamo una live Una rivista alla volta Così Sì Anche prendiamo la pavia liscia E comunque Non annoia troppo No infatti Perché se no Già adesso Leggere Leggere sta parte qua Poi leggere un'altra Introduzione Comincia ad essere Un po' forte Però La pausa post pranzo Così mi piace Un po' di chill Esatto Un po' di chill Post pranzo Un'oretta Secondo me Potrebbe essere Un appuntamento Fissino Una giornata Vediamo Viaggi alla ricerca Del sud Sono stati parecchi I fotoreportage Di viaggio Di Franco Pinna Dall'est europeo All'URSS Dalla Cina All'Indio Oriente All'Australia Non partiva Su commissione Ecco Aveva l'occasione O l'interesse Per un paese Ci andava E solo al ritorno Organizzava il servizio E lo vendeva Su questi viaggi Non ci sono Come per il sud Come per Fellini Libri esaurienti Bisognerebbe andare a guardare Nelle collezioni Dei settimanali E qui si sente La mancanza in Italia Di un'organizzata Fototeca nazionale Che ha avuto modo Di vedere i fotocolor Di Pinna Comunque Fa inevitabilmente Una divisione netta Tra quelli Dove il sole brucia La terra è arida Le ombre nette E dove Pinna Rintraccia i toni Del suo mezzogiorno E si diverte a cercare Altre analogie E i paesi dove La luce è più tenue Più velata E a volte malinconica È il caso Delle diapositive Sulla Cina Se lo scatto successivo Di immagini Ricerca dei piani E dei dettagli La rincorsa Al personaggio ambiente Ci propongono Un metodo di lavoro Già sperimentato E nelle spedizioni meridionali E sul set feliniano Emergono qui elementi Di un'emozione nuova C'è anche Ma tirata giù Un po' alla svelta Come appunti Su ciò che già si sa La Cina dei ritratti Di Mao E delle sfilate Dei libretti rossi Ma c'è soprattutto La Cina della costa La Cina che ha Il colore del mare I fotogrammi variano Da un grigio azzurro A un rosa verde Colori tenui Che si diffondono Su tutta la superficie Ma improvvisamente Su questo fondo articolato Che appare come Una fotografia ricca di grigi Ma in bianco e nero Con appena un leggero Bagno di viraggio Si insinuano O si illuminano O esplodono Punti e curve Vividi di colori pieni Il rosso di una bandiera Il violetto di un cargo Il giallo delle nervature Di una vela di bambù Gli stessi colori vividi Che Pina riscopre Sotto riflettore In teatro Nel laboratorio Di confezione delle stoffe Ma basta rientrare Nella natura Uscendo dall'ambiente chiuso Per rituffarci Nel colore diffuso e gentile Con quelle provocazioni Macchie ben definite Spruzzi significanti Nell'equilibrio Tra una pagoda E un albero O un laghetto Nello strato fioremerlato Nella discorda e armonia Che avvicina la barca Il ponte di ferro E il treno Dalla lunga fumata Non diversa La ricerca di toni e colori Che ritroviamo nel servizio Sull'unione sovietica Pina ci va Per il centenario Della nascita di Lenin E poi ci ritorna L'anno successivo Tentando un approccio Meno segnato Dalle celebrazioni ufficiali Dalle visite guidate Ma anche qui L'ufficialità resta In secondo piano L'attenzione È all'ambiente dell'uomo Meno natura Rispetto alla Cina Più la città La gente nei teatri E dei teatri I balletti classici E quelli tradizionali La gente alle terme Nel metro Nei vecchi quartieri E in quelli nuovi Quei grattacieli La gente nei grandi magazzini Di fronte alle vetrine Volti e merci Nel loro rapporto La gente nel meglio Degli anni E molti vecchi Che assistono Ai matrimoni dei giovani Che si recono a trovare Nei cimitero I vecchi della generazione Che non c'è più Servizi interessanti Ricchi E nonostante qualche difficoltà Per ottenere tutti i permessi Per fotografare Tutto quello che avrebbe voluto Sia in Ursa Sia in Cina Diversificati Completi Il professionista Non si smentisce Ma va oltre se stesso Va oltre la professione Quando ritrova Le terre del sole Nel Medio Oriente E particolarmente in Israele Il protagonista È la roccia bruciata Quella roccia Che anche qui Come nel nuraghe sardo Diventa casa Che anche qui Come nella domus deianas Diventa sepolcreto La roccia è il cavallo L'animale a cui pinna È profondamente legato Come via legata Alla sua gente sarda Altri animali Irreali Strani in Australia Dragoni cornuti Koala Incredibili uccelli E pinna si accorge Che è strano Come anche il canguro Quando è sulla sua terra Quando è sulla sua terra E si muove libero Non è quell'animale Un po' buffo E sempre identico Che conosciamo allo zoo Ha una mobilissima silhouette Che lo rende diverso Salto dopo salto Il sole concede agli animali Ai fiori Alla terra colori impossibili La riversa sui nidi E sui termitai Sui relitti E sulle onde Nel solco delle ruote Sulla pista riarsa Nel deserto Quasi con un senso di rivincita Franco Pinna Vede emergere I monumenti negativi Di un consumismo precario E li fotografa a lungo Carcasse d'automobile Residui di una pompa Di benzina abbandonata Destinati a durare poco Mentre il deserto Attorno a loro È eterno Con ironia Con ironia sicuramente Annota con l'obiettivo Dove i cartelloni turistici Che annunciano Che i graffiti rupestri Di Ayers Rock Sono unici al mondo E intanto il pensiero Deve corrergli alla Sardegna Ai suoi graffiti Alle sue testimonianze Di antica civiltà E di credenze arcane Ma l'ironia è tutta Per il cartello Non per il segno Tracciato dalla mano Di un uomo Che era ancora padrone Della sua Australia Al contrario La macchina si avvicina All'atavico messaggio Con precisione E insieme con delicatezza Con interesse E insieme pudore A sinistra c'è una foto Di Mario Schifano Nel 65 È il suo ultimo viaggio Come testimonia Il professor Carpitella Era un momento In cui Pinna Stava recuperando Come parte decisiva Di se stesso I primi viaggi nel sud Come testimonia L'appunto di Pinna Sull'Australia Che pubblichiamo più avanti Pinna stava anche Recuperando il senso Dell'avventura Che impregna Quella letteratura americana Che tanto amava Per questo forse Le immagini sull'Australia Sono così piene Decise per entorie Ma eh Mike si è abbonato Ciao Mike Grazie Un eroe nazionale Ciao Mike Per entorie Quasi che È per questo forse Le immagini sull'Australia Sono così piene Decise per entorie Quasi che Franco Pinna Sentisse che non gli restava Più molto tempo Per fotografare E per vivere Recentemente Il tribunale amministrativo Regionale del Lazio Ha annullato il provvedimento Legislativo Con cui i fotoreporter Erano riconosciuti giornalisti Le scarse risposte Della categoria Alcune ioaci Ma nell'insieme Non certo una risposta massiccia Non una sola azione Di protesta Ripropongono il paradosso Di questo gruppo Di operatori italiani Dell'informazione Che nella maggioranza Si occupano Delle più diverse Questioni sociali E poi si accontentano Di uno status sociale Del tutto insoddisfacente E frazionato Pochissimi fotoreporter Assunti dai giornali Un certo numero di freelance Molti dipendenti Da agenzie d'appalto Molti che lavorano Sì per i giornali Ma assunti come Poligrafici Certo non sono loro A scegliere Nella posizione Contrattualmente sfavorevole Nella posizione Subordinata Al giornalista di penna Sono scelte Dell'editoria E della concezione Dominante Su che cosa Debba essere Il primo posto Nell'informazione Ma è altrettanto certo Che la maggioranza Di fotoreporter Ha accettato Questa marginalizzazione Quando pochi colleghi Con anni di impegno Hanno strappato miglioramenti La maggioranza Ha cercato Naturalmente Di usufruirne Ma ciò non è bastato Per convincerla del fatto Che per mantenere le conquiste Anzi Per farle applicare Agli editori Era necessario Un serio impegno Sul terreno sindacale Così quando la sentenza Del Tar del Lazio Ha cancellato I fotoreporter Dall'ordine dei giornalisti Ancora una volta A reagire Sono stati in pochi Sarebbe del tutto Incompleta Una ricostruzione Dell'attività Professionale Di Franco Pinna Che non sottolineasse Questo aspetto Del fotoreporter Della Maddalena L'essere stato Un uomo di punta Nella battaglia Per il riconoscimento Della professionalità Di questo reparto Di addetti dell'informazione È nel 68 Che Sull'onda Dell'università critica tedesca Gli studenti italiani Si propongono il problema Del loro ruolo Della loro identità Negli anni immediatamente successivi La domanda sul proprio rapporto Con la società Coinvolge settori Di tecnici dell'industria Di insegnanti Magistrati Giornalisti di penna L'estremo frazionamento Dei fotoreporter L'esiguo numero di assunti Le agenzie a conduzione Artigianal familiare Di cui molti fanno parte Sono probabilmente Le cause prime Del ritardo Per cui Un'analoga domanda Qual è il mio ruolo Dell'informazione E quindi Che cosa devo rivendicare Per poter svolgere Efficacemente Questo ruolo Si pone Per loro Con un certo ritardo Rivendicazioni Naturalmente Ce ne erano sempre state Ma la comprensione Di questo problema globale Di questa battaglia Per un'identità Professionale Comincia a svilupparsi Solo attorno Al 1972 Franco Pinna È subito della partita Avete imparato A conoscerlo Non è un uomo Di molte parole Ma è un uomo costante Capace di portare avanti Un'idea Un progetto Combinando umiltà E ostinazione È per queste caratteristiche Probabilmente Che nel 19 marzo Del 1974 È eletto a far parte Della segreteria nazionale Dell'IRF Associazione italiana Dei reporter fotografi Partecipa Alla stesura Della prima piattaforma Rivendicativa Partecipa All'incontro In cui l'IRF Chiede all'ordine Dei giornalisti Una dichiarazione Di principio Che accetti Il fotoreporter Come giornalista E che stimoli Una trasformazione In questo senso Della legge istitutiva Dell'ordine Con altri Insiste anche Sull'esigenza Che si crea Una facoltà universitaria Per la formazione Di professionisti Dell'informazione Giornalisti Fotoreporter E telecine operatori Conosce la divisione Della categoria E si mette in moto Per unire Il maggior numero Possibile di colleghi Attorno a questo impegno Conosce la debolezza Della categoria E si batte Perché il sindacato Dei giornalisti Contribuisca Alla formazione Di una coscienza Professionale Sindacale Nasce da questo lavoro Il gruppo di specializzazione Per l'informazione visiva All'interno Della federazione Della stampa Il risultato Sarà positivo Nel 76 Ecco il decreto Che modifica la legge Che apre le porte All'ordine Ma subito C'è il ricorso Degli editori Del tempo Del messaggero Dell'agenzia italia E la maggior parte Degli editori Che non ricorrono Comunque Non applicano La nuova normativa L'impegno Non può essere abbandonato Semmai va accentuato Pinna non si tira indietro Negli ultimi anni La sua attività Si divide dunque In tre direzioni Fellini I viaggi all'estero L'AIRF Il cosciente pessimismo Che caratterizza Buona parte Della sua produzione Fotografica Sussisteva anche Nell'impegno sindacale Gli editori Non molleranno E noi continuiamo A essere troppo divisi Confidava E infatti Su un nuovo ricorso Della stampa Gli editori Sono ora riusciti A far cancellare I foto reporter Dall'ordine Ma quel tipo di pessimismo Basato su una visione Esatta della realtà Non gli impediva Di muoversi Perché la realtà Venisse cambiata In fondo Che cosa voleva Pinna Anche per il sud Quando ne fotografava L'umanità Ma restava scettico Sul futuro Non voleva certo Un ritorno all'antico Né il cristallizzarsi Immobile del tempo Cercava di indicare Quali valori Devono restare Quali apparenti rimedi Appaiono falsi Alla prova dei fatti Combinava la denuncia sociale Con la fissazione Della memoria Attraverso le immagini Di ciò che l'uomo Aveva fatto per l'uomo E in questo senso Poneva la cultura Non accademica Non libresca Come momento decisivo Per capire e per operare Di qui I due volti di Franco Pinna Fotografo E sindacalista di fotografi Si congiungono In una stessa Prospettiva di rigore Di passione e di professionalità La foto a destra Si vede poco Probabilmente Ma è Vediamo se mette a fuoco Sì È Carla Fracci Ed Eric Brun Nel 1962 Eh sì È finita Leggiamo solo l'ultima pagina E poi siamo a posto Penso che Non so Vediamo un attimo Franco Pinna on the road Franco Pinna ha scritto Brevi articoli Di accompagnamento Ai suoi fotoservizi Quando collaborava Con periodici Dell'est europeo Ha scritto con i colleghi Crispolti Nemitz Bizzicari Cerati Lucas Eccetera Brevi testi di carattere sindacale Sulla condizione professionale Quando era segretario Dell'associazione dei fotoreporter L'IRF Pochi però lo ricordano Con la penna in mano Per questo i brani Assolutamente inediti Che seguono Hanno un sapore di eccezionalità Sono tratti da un lungo appunto Scritto per sé Non destinato alla pubblicazione Redatto nel corso Dell'ultimo viaggio Quello in Australia Se l'influenza Della letteratura americana On the road È evidentissima Non dovrebbe sfuggire Che è ancora più presente Alla pratica di fissare Perentoriamente le immagini Per poi ritornarci Rifinirle Inserirle in un contesto È insomma Fotografia scritta Poi bisogna anche Cioè Noi stiamo leggendo tutto Però va un contestualizzato Perché ovviamente La rivista È degli anni 80 Quindi Bisogna capire Che tutto quello che dicono È considerato nel 1982 Solo per Quando parla Del ruolo Del reporter Del giornalismo Cioè C'è tutto dietro Sì 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 infatti È molto Anche interessante Da quel punto di vista Perché si vede L'evoluzione Di un lavoro Sì esatto Di quello che è poi Di quello che è adesso Che era adesso Adesso è un po' meno Però in senso sì Meno però insomma Chiaro chiaro Non posso più tacere Devo dirlo L'Australia è abitata Da miliardi di mosche Bene Vabbè Grande Grazie Franco Pinna Per il tuo apporto Le statistiche parlano di tutto Meno che di mosche Produzione Consumi Industrie Costruzioni Turismo E alluvioni Flora Fauna E immensi territori Da coltivare Pare dipenda dalle pecole Sono centinaia di migliaia Ma vabbè Ma dove c'è la vacca Dove c'è il dingo Dove c'è il canguro Il coale Il coccodrillo Il cammello selvaggio Perché c'è la mosca? In varie dimensioni Del rapporto uomo-spazio È una frase? In varie dimensioni Del rapporto uomo-spazio Ok È implacabile dall'alba A un'ora dopo il tramonto Quando tutto sembra silenzio E la presenza del fantasma aborigeno Ti commuove e spaventa Anche se a troppi chilometri Di distanza I fuochi Al centro del cerchio Dove gli avventurosi Hanno tirato senza fatica La tenda mimetica Servono a tenere la distanza Di sicurezza I temibili ma patetici dingo Sempre affamati Anche se la rete ormai Bucata e in più parti Non fadiga alle pecole Protettrici della mosca sacra Di questo tempo Il cielo è pulito La luna piena Le notte ble Colora Ble La notte ble Colora uguale Alberi e cose Anche la sabbia rossa Del deserto Victoria è ble L'acqua della rugiada Bagna il profumo Dell'eucaliptus Acre rifugio del cacatoa Dallo scudo pettorale rosa E il grido impertinente Grande Brancopina comunque Contestano i safariani Piccoli sproveduti In cerca di un'emozione Già consumata dagli spiriti pionieri Da meno di un secolo fa Ai margini della pista rossa E sconnessa Ho visto il diavolo Il dragone cornuto Immobile Incantato Ma cauto e guardingo Studia i miei movimenti Vorrei fosse più grosso Cerco l'obiettivo adatto E l'angolazione Si preoccupa Un colpo di coda E si rifugia Nel verde bruciato Del deserto Mentre due metai Di serpente velonoso Attraversa la strada Di spalle Non bisogna fermarsi Sulla pista rossa Pioggia di mosche infuriate Che protestano E chiedono acqua Al tuo sudore E al tuo sangue Alla grande e inutile Barriera del dingo Si consuma al sole Il resto del cangurino Incauto Ancora un metro Ed era salvo Pensava Il nemico ti circonda Incontri giungle di carbone Il serpente è tuo nemico Se ti appoggia al ramo Per fare il fuoco del tè La pista tagliata dai fiumi Dell'ultima pioggia Che è alluvione di morte Pantano Sabbia argilla Dove nuota immobile la carcassa Un cadavere monumento Al tuo consumismo L'automobile rovesciata E bruciata Dall'aborigeno Arrabbiato Dall'aborigeno Scusa Arrabbiato Perché ti sei fermata Ingrata Stupida e monotona bestia Quattro ruote E pedale automatico Ma asciutta Nel gozzo di gasoline Questa sia la tua fine Nido di serpi e conigli Rifugio di iguane E di messaggi agli uomini L'orizzonte è lontano La corsa matta per arrivare Lascia tracce Dell'uomo bianco civile Dignitoso Come escrementi Di giganti copertoni Bruciati E marmitte E tubi di scappamento Schiodati Sporcano la pista Si è perduto un aereo Tempo fa Scese in cerca del gasoline E Beardsville Diventa international Il carro Le ruote sono international L'aborigeno è international L'acqua è international La palude eterna Fuori le mura L'aborigeno Ford Falcon Made by Australia Rientrano nell'orizzonte Con l'asilo di infanzia Che grida nella vecchia lingua L'Australia era mia 90.000 lire per quattro Al mese Non basta comprare L'anima dell'uomo Non basta per comprare Il fiume della birra Malinowski dice Che l'aborigeno è diverso La cattiva coscienza Del pioniere Non dorme La cattiva coscienza Del pioniere Non dorme Pascola la mucca La pecora Impasta cemento Con l'automatico Ascolta la musica pop E la ida Il canto aborigeno è diverso I tamburi sono diversi Vanno lontano Fanno paura Cercano l'uomo Il motel per il turista Man-Woman In cerca di emozione Guarda dalle finestre Del conditioned air E la notte cerca il souvenir Cerco l'Italia C'è l'Italian Club Musica di Verdi Australian Wine Birra Coca-Cola Ginger Beer Mi piace È presente l'Abruzzo Molise La Calabria La Ciociaria La Sicilia La Sardegna Il Padrino Le carte da gioco Il calcio da tavolo Il biliardo Nelle case Barbecue e spaghetti Notte fonda Luce al neon Tre metri sotto terra Ventilatori Aria condizionata Permaflex Frigidaire Mocha Express Scotch Whisky Vecchia Romagna Etichetta nera Crea l'atmosfera Pugni di odi Opali per souvenir Soda water Le noccioline Ritorno alla tendopoli Completamente pazzo Comunque Franco Pinna Qui chiaramente Stava delirando All'alba Il free opal My nature scava La donna incinta Aspetta l'opali L'opali Non so Il vecchio padre Aspetta l'opali Lo strozzino Aspetta l'opali Me lo fa dire 800 volte Perché non so dirlo La terra Sputa l'opali La febbre supera i 50 gradi All'ombra Bollettino del mare No Del deserto L'uomo è solo Due è morto Non è mai nato Io scavo Tu scavi Loro hanno scavato Il cimitero Ancora poche tombe E riposano in pace La sabbia è bianca E fischia C'è un bunker Ancora dall'ultima guerra Aspettavano i giapponesi Con un cannone Che ha sparato Un solo colpo Per sbaglio In mano A una reclusa nervosa Ha spaventato tutti Meno i pappagalli E i fiori rosso-arancio Che lo sapevano Sei relitti di navi Che proteggono Dalle correnti Del pacifico L'erosione della spiaggia Giungla Dune da sci E slitta Alte 300 metri I dépliants Dicono Le più alte al mondo Brisbane Dietro L'isola D'altro pacifico Onde alte Rumore Paura Cavalli selvaggi E strani uccelli marini Marzo Andiamo verso l'inverno Attraverso un autunno Nuvolo assolato caldo I bungalano ventilatore Doccia Bollitore Letti larghi Nascosti nella giungla Giardino con veranda Verso il mare Giochi Passatempi marini E biliardi by night Piuceremo americano E cartone animato Ma è il breakfast Che mette fame Zucca e arancia Lamb Che è agnello A bistecchina Con pezzetti di ananas L'uovo in tutto Pesce e crème E patatine Lunch Con troppo mangiare Ti porta la pennichella Ma è il dinner Che ti ricorda Onolulu C'è tutto Vuoi tutto E poi lasci a metà Perché hai preso troppo Al self service Io e Sergio Testimoni dei grandi spazi Circondati dal mare Si sente un odore di carne Siamo a Bombay Peccato Scende l'hostess cinese E sale un inglese Più 30 indiani Dire Ci dissociamo Direzione Londra Meglio Sai che ti dico Tornare indietro Montare sulla tenda E aspettare il sole In sonne l'alba Nel freddo della notte Tra i tanti frusci Sospettosi Chi è? Dingo Dingo Ho fame uomo bianco 26 ore tra i fusionari Sono tante Ma I return for you I remember Completamente Pazzito Pazzuto proprio Tutte le robe che ha fatto Secondo me Tutti i giri che ha fatto Veramente Ma assolutamente Completamente matto Era veramente Grandissimo Grandissimo Tanto questa foto non c'è Ma penso fosse Non so Questa qui Bello mi è piaciuto molto Infatti c'è da C'è da approfondire Poi su Su questo Su questo Pimbo Lo conoscevo io quindi No neanch'io sinceramente Conoscevo Assolutamente Ah ma Non ho mai Non ho mai approfondito lui Ok Adesso mi posso abbassare questa No neanch'io sinceramente Non lo conoscevo E non Ti dico Lo conoscevo solo Perché avevo le riviste Quindi questa è stata L'unica cosa che sapevo Però tanta roba Sì Assolutamente Pazzo Bravissimo Poi in futuro Sì Penso sia anche difficile Probabilmente trovare Roba sua Sì Perché sinceramente Non so quanti Quanti Beh oddio Libri potrebbero essere Non ho ben capito Allora in queste riviste Non c'è scritto Molto della vita C'è scritto Fammi vedere se c'è qualcosa Su Amazon È scritto tutto molto In linea generale Quindi Sì beh ovvio È sempre Sempre appunto Una raccolta Delle sue foto Sì esatto Un pochino più grossi E poi dopo Oh basta Ci sono i suoi C'è qualcosa Tra l'altro L'isola del rimorso Fotografico 50 euro Questa è beh Tutta la raccolta Poi vabbè C'è quello il tuo Ah c'è la Ah c'è su Amazon Sì Pazzissimi 6 euro usato Ah beh Beh Eh sì è quello qua E basta Ho trovato No non è disponibile Viaggio nelle terre del silenzio La sila Sono tutti non disponibili Su Amazon Vabbè Casomai troveremo qualcosa Vi linkiamo Però è stato sì Molto interessante Secondo me Molto bello E poi dopo Vediamo lì Cioè nel senso È bello portare anche queste cose qua Sì sì sono d'accordo E senza appunto Magari Non diciamo Chi 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 leggiamo Facciamo la sorpresa Sì 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 Ma infatti non ho messo Infatti nel titolo Ho solo messo Generico Così nessuno sa E Tra l'altro Alcune di queste riviste qui Le ho sfogliate Cioè le trovate anche Negli IGTV Su Instagram Le abbiamo sfogliati Quindi si vede Si vede solo appunto Io che sfoglio le riviste E un po' di musica In modo che Se volete guardarla In velocità In qualche minuto La si vede insomma Esatto Quindi trovate Tutto sul profilo Instagram Quindi nel caso Chi Chi è online adesso Chi non ci segue Se volete Vedere cosa facciamo C'è tutto lì Praticamente Tutto su Instagram E poi dopo Facciamo interviste Parliamo di Appunto Di fotografie E qui appunto Approfondiamo anche un po' Tutte quelle parti là Dei libri Perché su Instagram È un po' più difficile Poter fare qualcosa Di un'ora e mezza Ad esempio Comunque è andata avanti Un'ora e mezza Quindi direi che è Molto 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 buona A me è piaciuto Mi sono divertito Voi ragazzi Visto che siete ancora online E grazie a tutti quelli Perché Che sono rimasti Perché siete stati veramente Praticamente tutti Dall'inizio alla fine Quasi E fateci sapere Diteci adesso Magari Se vi è piaciuto Se è stato interessante Se Se è stato pesante Insomma Diteci quello che volete Noi siamo ovviamente Aperti alle critiche Ragazzi Che vengano approfondite Altre cose Sempre su dei libri Che O su degli autori Chiaro A far vedere qualche libro Anche magari qualche libro Un pochino più grande Fatti infatti Perché alla fine In un'oretta Chiaro Molti Molti libri Sono anche meno scritti Tra virgolette Quindi si può vedere Anche qualcosa di più Sì infatti Esatto Molti libri Si possono sfogliare Si possono sfogliare Tante volte Non c'è scritto niente Perché sono solo foto Non chiedete libri di mappe Torp Perché No esatto Purtroppo dobbiamo Attenerci a cose Visionabili Infatti Ancune riviste Sarà difficile farle vedere Perché ci sono alcuni Che scattano nudo Quindi Non so bene Cosa ne pensa Non mi sono informato Però non so Cosa ne pensa Twitch Sul nudo Sinceramente Quindi Bisogna un attimo Un attimo valutarla Questa cosa Nel caso appunto Se avete domande Ce le fate qua Oppure se ce le volete fare Su Su Instagram Non ci sono problemi Esatto Esatto Tranquilli Ecco Mettiamo due minuti Per vedere se qualcuno Dà un parere O se avete domande O appunto Intanto noi approfondiremo Anche Quello che ci hai detto tu Fra Se sei ancora in live Ci Guarderemo magari Qualcosa Di Non mi ricordo più il nome Mario La Salandra La Salandra Cerchiamo di approfondire Anche lui Così vediamo Se si può portare qualcosa Qua in live La Salandra Esatto Vediamo di portare Qualcosa in live Di lui Magari E Tanto Libri siamo pieni Tra tutti e tre Penso che abbiamo Una valanga di libri Di fotografia Io riviste Ho queste qui Ma ne ho veramente Penso Una quindicina Io ho Quelle Queste qua vecchie Per dirvi Adesso Vi faccio vedere Vabbè dai Prendiamo queste Sono uscite tutti Che è questa qua Quella che dicevo Mi parlavo Sì Lui Sono molto interessanti Le sue prefazioni Anche su quello Che appunto Sa Perché ne sa Veramente tanto Ha scritto Per Repubblica E tutto E tutto così Cioè C'è la prefazione All'inizio All'inizio Classico Come abbiamo visto Come abbiamo visto In più Ho anche Che sto raccogliendo Non so Non so Questi che sono Sono molto belli No Sono commentate Da Corrado Augas Quindi L'ultimo arrivato E È molto bello Sono molto Molto belli Io Consiglio Io ho preso Quello di Newton Mi pare Di quella collana là Vero Quello rosa Sì Rosso Mi pare Rosso Rosa Non mi ricordo Non so chi era Io Sono sicuro Che ho preso Newton Sì Però non so Non mi ricordo Che colori aveva la copertina Comunque sì Sono tutti colori diversi Sono bellissime Sì sono molto bello Infatti Sono contento Di averlo preso Sono veramente Ficchi Poi ho altre roba Appunto Un altro Un altro Un libro Che ha molte foto Della Sardegna È quello di Cito Sì Quello di Francesco Cito Che è spaziale Come libro Ed è più antologico Ha molte foto Della Sardegna Che appunto Cito È Andato Ha fatto delle foto Incredibili Lì Quello Rosa e Bresson Ah quello Rosa e Bresson Ok Perfetto Eh Dovremmo parlare qualcosa Di Bresson Che ne abbiamo parlato Un po' Bresson Ne abbiamo parlato Un po' di Bresson Beh Parvado che in generale Non abbiamo parlato Di tanti Tanti libri Però Mi piacerebbe fare Queste live Un po' più cortine Rispetto al solito Beh un'ora e mezza Comunque non è corta Rispetto al solito Stavo pensando Che in realtà Anche le altre volte Abbiamo fatto un'ora e mezza Quindi Ci perdiamo Ci facciamo le nostre I nostri viaggi Sì esatto Però dai Sono contento Grazie Fra che hai mandato il link Adesso approfondiamo Anzi lo apro subito Così poi Approfondiamo un attimo Può essere assolutamente Che se ne parli Anzi Sì sì assolutamente Se avete Se ne avete altri Se vogliete appunto Che approfondiamo Di altre cose Non problemi Assolutamente Il nostro Instagram È sempre aperto A suggerimenti Nei DM Altra cosa E fatele direttamente E fatecele Visto che saremo lì E parliamo un po' Di fotografia Parliamo E adesso andiamo a fare Andiamo Bene È stato bello Grazie a tutti di essere passati Se siete stati dolcissimi Grazie a tutti quelli che hanno Grazie a chi ha followato E a chi ha fatto la sub E poi vi mandiamo Scriveteci su Instagram Che vi mandiamo I I preset E basta E ci vediamo Prossima volta Che in teoria Se non succede altro Nel frattempo È giovedì Alle 21 Con Pasquale Ovviamente Se utilizzate Se utilizzate i preset Non ditecelo Taggateci O fate insomma Quelle cose che si fanno Esatto Quelle cose molto social Che noi non siamo capace a fare Taggateci Scriveteci Eccetera Va bene Ciao a tutti Ciao Ciao